Benvenuti a tutti ragazzi per questa nuova gameplay di GTA Pacific Quando... Aspetta In off avevo ricevuto questa chiamata L'ha detto raggiungi il telefono pubblico a Viceport No Vicepoint E quindi abbiamo bloccato un altro contratto da sicario Elimina la moglie Ovviamente per l'ottimo lavoro mi sta attivando Il mio cliente è molto soddisfatto Ho un altro compito di cui ho fatto con un progetto Ma siamo male Una donnicciola Ok Dobbiamo farla sembrare negli amici dei Comunque come l'è scritto nel tutorial La morte di Mr. Dawson Le sembrava un incidente Non utilizzare le armi Ah quindi devo tamponarla proprio fino alla morte Quando non prende fuoco Ok tamponiamolo fino alla morte Dico oh my god Sembra se riesca a tamponarla Non so Spero che dura poco rispetto all'altro Il primo contratto da sicario Via Tanto sta pure piovendo Fai una missione durante la pioggia Fettacolare Fettacolare Oh my god Oh my god Eh oh my god Anzi oh my god Penso che Già dall'inizio del gioco abbiamo 96.000 dollari Grazie Alle missioni infermieri che ho completato Come missione secondaria che l'avevo pure portato come gameplay Ok Ok Tra poco l'auto esploderà malissimo Completeremo anche questa missione Missione come contatto da sicario Ok dai Mori male Oh my god Ok Ok Andiamo su Ok ce l'ho fatto Ok Abbiamo completato anche questa missione come contratto da sicario Ok E anche questo video che mi prevolge a termine Da vostro cammino insieme è tutto Alla prossima Ciao Ciao